E per tutti ragazzi, benvenuti qui dal vostro veloci, siamo sempre qui con il nostro fantastico Parma, nell'ultimo episodio nel quale concluderemo questa stagione, un po' travagliata verso il finale, e non c'è molto da dire, adesso c'è la partita con il Venezia, tra l'altro guardavo qua i risultati del sorteggio di Champions, la Juve che è arrivata in semifinale contro il Barcellona, e l'altra sarà Manchester City per St. Germain, Juventus che ieri, 25 ottobre, è uscito ufficialmente dalla Champions League, Un risultato che, vabbè, si commenta da solo, 4-1 col Benfica per praticamente 70 minuti, poi entrano i giovani, siamo arrivati addirittura a un 4-3, comunque il Benfica ha sfiorato, cioè, poteva fare benissimo tra pari, traverse, miracoli colpiti, 6-7 gol come ne ha fatti il PSG al Maccabi, ma comunque questi sono altri discorsi, ripeto, se volete anche, cioè se vogliamo anche ampliare qualcosa parlando un po' più di calcio a 360 gradi, Io sono ben disposto a fare video anche di quel tipo, se volete. Comunque, adesso concentriamoci sulla carriera, carriera che finirà, come ho detto, speriamo in questo episodio di concluderla al meglio, comunque abbiamo subito una barcata di gol adesso che guardavo, Perché il Genone ha subito i 40, il Cagliari 35-32, noi ne abbiamo subito i 53, quindi tantissimi gol subiti, secondo me il problema è la difesa 3 che non so utilizzare, quindi dobbiamo anche valutare magari un cambio di modulo, è vero che andrebbe contro quello che era la media di percorso, però si può anche cambiare strada facendo, perché 53 gol subiti sono veramente, veramente tanti. Poi se confrontiamo anche con le altre, veramente c'è da mettersi le mani nei capelli, comunque rosa, rosa dei titolarissimi, tra l'altro dovevo guardare una cosa che giustamente uno di voi mi ha detto, ma bello, ma quanti soldi ti sono rimasti? Eh, io spero, eh, mi sono rimasti 5 milioni, 5 milioni adesso non mi ricordo Miretti a quanto dovevamo riscattarlo, spero, mi sembra intorno ai 4 qualcosa, almeno prego il signore che sia così, perché perdere Miretti mi ammazzo in queste precise istanze, comunque, adesso Venezia-Parma, andiamo a vincere, speriamo, questa partita, così da chiudere il discorso campionato una volta per tutte. Ancora il Venezia, occhio a non prendere gol, bravissimo, Cobut, meno bravo nel disimpegno, palla comunque lì, in qualche modo ci stiamo chiudendo, ma ancora il Venezia in avanti, Andersen, prova a sfondare lui, Busio, occhio Busio, occhio Busio, palla che sbatte sul loro giocatore, c'è Buffon che esce, e non esce, qua però riusciamo a ripartire noi con Tutino, Prova a lanciare Girotti che la controlla, lancia Farias, bella questa palla, Farias, Farias, tu per tu col portiere, se lo salta, se lo salta così, cioè saltato ragazzi, secondo me è tutta una botta di culo sul rimpallo, perché io avevo tirato, non avevo fatto nessuna skill, la palla gli ritorna addosso e fortunatamente riesce a buttarla dentro, gol molto, molto fortunato, tifosi del Venezia che quasi non ci credono, rivediamo però, perché va capito, sì, anzi no, la palla è passata, però, diciamo che il portiere c'era arrivato, Tra l'altro se non ci avesse messo il piede la salvava comunque il difensore, quindi ottimo Farias a crederci fino all'ultimo, e qua Miretti, Farias, Farias che lotta, regala il gol a Tutino, questa maniera che molto, molto elegantemente viene concretizzata l'azione, Mamma mia Tutino, grandissimo gol qua di tacco, sembra un po' Rafa Silva ieri sera, come Juve veramente, quando ha fatto quel gol, regà, volevo proprio spegne la televisione e lanciare qualsiasi cosa, cambia addirittura nel Venezia, 2-0 al minuto 43, ottimo, stiamo giocando veramente bene, Farias è qualcosa che non posso descrivere, tra l'altro 17 gol per Tutino, Che supera Farias allora, ma devo un attimo vedere la classifica marcatori come messa, perché, comunque noi abbiamo fatto una barcata di gol, subiti un sacco, ma fatti anche tantissimi oggettivamente, Occhio però qua al Venezia, con Fjordino, giocatore interessante, Fjordino prova a metterla dentro, chiude tutto e finisce qui il primo tempo, E qua Girotti, per Tutino, che prova ad andare, Tutino, 3-0 Parma, mamma mia, nelle ultime partite ci stiamo tirando su, devo dire, anche il gioco sembra un po' più fluido, Beh, non capirò mai sto, sto FIFA, veramente, partite dove perdiamo 7-3 e altre dove dominiamo, dove non è cambiato nulla, e... Però, comunque, Tutino, 18esimo gol in questa competizione, E rigore, eh, te pareva che non arrivava, minchia, proprio a Ghir, appena è entrato, Eh, povera Ghir, c'è l'asto vizio di macellaio, vediamo se Buffon para questo calcio di rigore, no, 3-1, pigliamo comunque il gol, eh, non c'è niente da fare, in qualche modo, almeno uno ce lo devono fare, Qua Iguain si pecca un tunnel, l'occhio adesso, perché qua, questa partita non è finita, si può ribaltare tutto, Tra l'altro pure questo è il Venezia, fatto 18 gol, Il tempo è praticamente finito, Bernabè però è fresco, Bernabè, Bernabè, Fino in fondo, Bernabè! Che giocatore ragazzi, che giocatore, si risalta a tutti come Birilli, appena è entrato, Timbra subito, il suo nome, il tabellino dei marcatori, grandissima progressione qua, Gli ultimi secondi, salta anche bene il portiere, proprio per appoggiarle in porta, Col minimo sforzo e il massimo risultato, un 4-1 che ci regala, forse, in maniera definitiva, La vittoria di questa Serie B, si spera. Allora, qua subito Salazar ha richiesto il prestito, anche qui facciamo di un anno, Ok, e direi che possiamo volare alla partita col Palermo, che sono curioso di giocare, Però mi sa che la giocherò con, eh no, devo giocarla con i titolari che magari festeggiamo in casa, Forse, vediamo quanto ha fatto il Geno, a 71-81, si abbiamo vinto, siamo primissimi, Eeeh, 91 gol fatti, porca miseria, cazzo, non penso che arriviamo a 100, Non penso di fare 9 gol in due partite, anche se col Cosenza potremmo farne parecchi, Ma la vedo un po' dura, azzardare così tanto, prestito, qua arriva la conferma, Quindi accettiamo, che vadano a crescere, si spera, e noi ci vediamo in campo col Palermo. Tuttino comunque, gran giocatore, Zagano veramente ottimo, ve lo consiglio per una carriera di comprarlo, Perché, devo dire, niente male. Parma, 91 gol segnati, 36 partite, penso sia record, incredibile, Cioè, siamo forse anche il record, diciamo, in tutta Europa. Abbiamo segnato tantissimo quest'anno, però adesso siamo al Tardini, in casa, Per festeggiare poi a fine partita, dobbiamo festeggiare però, quindi, Trovare anche un risultato comunque positivo, si spera. Qua però stiamo partendo bene, vedo, con Iguain, Iguain, Peccato per l'infortunio che l'ha un po', diciamo, messo in box, Attenzione qua, Farias, mamma mia, che classe questo giocatore, però non c'è spazio. Passa da Iguain, che prova ad andare, addirittura con l'esterno. Fa un gol difficilissimo, c'è Miretti però dalla bandierina, Cerca Cobut, non viene trovato, palla che sfila, E Di Mariano la controlla, riparte il Palermo. Minchia. Brutto fallo qua, attenzione alla ripartenza del Palermo. Rivela sicuro un giallo per Valenti. Palla. Dentro, io ho visto una mano netta lì di Cobut. Diciamo, forse il direttore di gara ha valutato l'involontarietà del fallo, ma era abbastanza netta. Eccolo qua, arrivato puntuale. Il gol del Palermo, che comunque non si è presentato spesso in avanti, noi ci siamo mangiati in un sacco di occasione. E qua Lancini, ho letto bene, il capitano tra l'altro, ci purga così dalla bandierina, comunque loro ci stanno mettendo più grinta, noi appagati magari già dalla certezza matematica. stiamo un po' spenti. E qua, sì, Lancini. Minuto 37, 1-0 Palermo. Occhio. Palla che viene messa dietro. Occhio gol. Buffon, Buffon, gol. Buffon, mamma mia. Miracolo. Miracoli su miracoli, Buffon. Farias, Tutino. Gonzalo. L'appoggio perfetto. Per Mijla, può passare dal centro. Farias, nonostante il pallone di Miracola non era perfetto, era troppo arretrato. Farias cadendo in qualche modo, riesce a prenderla e a buttarla dentro. Non con poche difficoltà, fa esplodere comunque tutto lo stadio, che stava assistendo veramente una prestazione pietosa, che rimane comunque, perché non è un gol quello che ti giustifica. Però, il solito, ennesimo, Farias. Eh, questo non è fuori gioco. Cosa cavolo è successo? Qualcuno mi può... Ah, era fuori gioco, ok. C'erano tutte così di fretta, queste cose non si capisce niente. Guain. Minchia, guain, no. Con quei passaggi sappiamo più fare qua, eh. Madonna, santa, che... No, Ross. Bella per Miretti. Festeggia così, l'ultima. Il cartellino rosso. Ci sta tutto, eh. Eh, qua anche intervento scomposto, madonna. Parma in dieci. Però se riusciamo a ripartire, perché loro sono... Quelli avanzati. Qua, palla di manna. Per Farias. Farias trattenuto. Farias! Nonostante lui in meno, nonostante tutto, noi abbiamo un dieci, che vale per dieci giocatori, perché fa tutto da solo. Quando prende il pallone. Giocatore, veramente, fuori categoria. Non da Serie B. Infatti ho molta paura delle offerte che potranno arrivare per lui. Perché ricordiamo che comunque dobbiamo dare una serie di realismo. Io lui non lo vorrei toccare, perché so che diventa un fenomeno. E qua... ci salva al novantesimo. Addirittura troviamo una vittoria, che dire... immeritata e dire... dire poco. Dire veramente poco. Perché il Palermo ha giocato una gran partita. Noi nervosi, appagati. Non so, tutte le scusanti che possiamo trovare. Sono solo scuse poi alla fine. Ho giocato molto male. Qua attenzione pure su ultime azioni. L'arbitro potrebbe anche fischiare la fine. E fischia. Teoricamente ora possiamo darci ai festeggiamenti. Perché ha schippato così? Io non ho toccato nessun tasto. Ok, ok. Eccoli qua. Festeggiamenti qua di tutti i giocatori. Ah... Farias, grandissimo giocatore comunque. Buffon che si guarda soddisfatto. Pronto ad alzare la coppa. Si abbracciano tutti. Stanto una difesa che abbia subito una barcata di gol. Iguain forse all'ultima. Insieme ad Ansaldi. Possiamo dire la The Last Dance. Si abbracciano tutti. I fotografi qua. Pure la panchina sta... sta festeggiando. Ora c'è proprio qua. il momento della coppa che va tirata su a tutti i costi. Un Buffon. Si, che è il capitano. Bella tra l'altro. Molto bella la coppa. Cioè... Diciamo, almeno fatta bene. Si vede quest'anno. Buffon che arriva. È pronto a consacrare questa stagione nel migliore dei modi. Diciamo che era... era il nostro obiettivo. Dovevamo provarci. Ma tra il provarci e riuscirci c'è sempre una netta difficoltà che l'abbiamo vista durante il percorso soprattutto verso la fine. Qua i due uomini simbolo direi. Buffon e Farias perché sono stati veramente due trascinatori. Uno il futuro l'altro il passato possiamo dire perché ha 44 anni. Possiamo definirlo passato. Esplode tutto lo stadio. È bello festeggiare anche così davanti a noi. un Garofani che si abbraccia con Ansaldi che lo saluta e Buffon che fa la corsa e alza questa incredibile coppa. La prima speriamo di una lunga serie. Perfetto ragazzi. Abbiamo ottenuto la vittoria. Abbiamo due email. Vediamo un attimo. Il giocatore squalificato Cobut per somma di ammunizioni e Miretti per l'espulsione diretta che ha ricevuto. Abbiamo perso i due in un colpo solo. Direi di andare con la squadra delle riserve a simulare l'ultima partita contro il Cosenza. Tanto abbiamo visto i festeggiamenti abbiamo visto tutto quindi direi che possiamo andare molto tranquilli in questa simulazione. Farei solo giusto due cambi se riesco a parlare se non mi strozzo e che sono quelli di di fare giocare oggettivamente Ansaldi e Higuain perché è quasi certo che si ritireranno entrambi quindi è giusto farli giocare al posto di Torsiello mettiamo qui e qua mettiamo al posto di Ricci Ansaldi e convochiamo magari Flores che è più promettente perfetto sistemate queste due cose possiamo andare a simulare velocemente la partita col Cosenza simulazione veloce vediamo l'ultima di Ansaldi e di Higuain se sarà gioio o dolori sarà un 2-2 onesto segnano Pellegri e Higuain proprio che ci saluta così vediamo se è uscito per caso si Higuain è uscito quindi si è preso la standing convention invece Ansaldi è rimasto fino all'ultimo in campo a difendere la propria porta e adesso andiamo a tirare le somme di quelle che è stata una grandissima stagione partendo dai risultati di campionato allora prima sistemiamo le chat qua classifica quindi di serie B passano direttamente Parma e Genoa e se la giocheranno Cagliari, Brescia, Benevento, Palermo, Venezia e Tarnana alla fine che la spunta sull'Ascoli incredibile ma vero bene bene buon per loro Palermo si ormai sono tutto definito e va bene così direi vabbè vediamo cambiamo competizione vediamo scusate la finale di Coppa Italia e Monza-Inter ok il Monza arriva in finale di Coppa Italia complimenti a Palladino il Real vabbè qua era scontato in Champions abbiamo un 1-1 della Juventus e un 2-1 per il City qua abbiamo Arsenal-Porto e Lazio-Roma c'è Roma-Lazio peccato che si sono incontrate insieme in finale qua nessuna italiana e la classifica di serie A non me la fa vedere ah no non da qua perché non è una nostra competizione vediamo un po' se da qui posso beccarla no quindi chi ha vinto la serie A rimarrà un mistero volevo però guardare che non so come diavolo si faccia però in qualche modo adesso proviamo se volessi guardare tipo la classifica dei marcatori secondo voi dove dovrei andare? perché se vado su campionato non mi dice niente vabbè direi di a sto punto andare non su schemi di squadra ma su Abdi Rosa guardiamo i giocatori e le loro prestazioni non so dove guardare oggettivamente allora abbiamo Garofani che mostra un ottimo potenziale ha fatto una crescita di 3 una crescita un po' lenta è vero che con Buffon è difficile trovare spazio molto difficile perché è stato un santo San Gigi e direi di guardare prima la crescita e poi le statistiche anzi facciamo così che ci dice tutto almeno allora quindi Garofani 4 presenze è cresciuto di 3 poi abbiamo Buffon inamovibile 36 presenze non è cresciuto 45 anni incredibile Ansaldi purtroppo scende di 5 di tanto e si ritirerà lo salutiamo con 36 presenze e un gol qua tutti i giocatori in prestito che guardiamo però se sono cresciuti Lodagreti si Pezzella no Circati di 1 Balog di 1 e Palomino un più 3 però diciamo che poteva crescere un po' di più Kovutis fa un bel più 4 ottimo difensore devo dire che ha fornito un assist questo giorno mi sono trovato molto bene con lui anche con Valenti che riesce di 4 purtroppo tutti e due avanti un po' con l'età se no sarebbero stati dei bei giocatori lui fa 2 gol e un assist Salazar vabbè appena arrivato Ricci pure Floresan Cagirre comunque gioca le sue 24 partite si fa un bel più 6 quindi tanta tanta roba questo giocatore che deve solo migliorare un po' perché pecca un po' di inesperienza in alcune partite però grandi margini di crescita stessa cosa anche per Troré messo un po' più ai margini dopo l'arrivo di Aguirre perché diciamo che la differenza è netta di potenziale anche se comunque anche lui rimane un ottimo giocatore l'olandese volante che per quel poco che è stato diciamo chiamato in causa ha giocato comunque sempre bene non mi sento di criticarlo anzi cresce di 3 molto duttile Del Prato in prestito sale di 2 Ciprien sale di 1 Mijla allora da Mijla 6 gol e 9 assist diciamo una stagione buona comunque in 28 partite tanta roba e poteva fare di più secondo me poteva fare molto di più alcune volte incerto e così così comunque prestazione tutto sommato sufficiente Quisans crack assoluto a livello di assist 13 assist in questa stagione sono un abuso in fase realizzativa un po' meno ma sappiamo che lui deve fornire assist e difendere quindi ha fatto il suo Miretti un inizio straordinario una fine diciamo un po' sottotono comunque si difende alla grande con 9 assist e 5 gol tra l'altro Miretti che poi andremo a capire se possiamo già riscattare adesso o dobbiamo aspettare Grassi non cresce Hernani non cresce Bernabè grandissimo giocatore verso il finale di stagione si è dimostrato un'ottima soluzione un'ottima riserva devo dire quindi grande è cresciuto anche di 3 da Silva cresce di 3 mi aspettavo qualcosa di più da lui sono rimasto un po' deluso sarò sincero Camara si fa un più uno Farias si commenta da solo ragazzi 21 gol e 15 assist cioè fuori di testa fuori di testa giocatore che là davanti gioca a destra sinistra punta ovunque lo puoi mettere Farias non deluderà mai miglior giocatore della stagione secondo me ha mani bassissime vince proprio lui il premio fatemi sapere anche voi sotto nei commenti se siete d'accordo ma avevo pochi dubbi sul fatto che sarebbe dimostrato un grandissimo acquisto Mann purtroppo l'infortunio l'ha frenato comunque in 20 partite 6 gol e 4 assist il suo l'ha messo Terracciano anche lui partito bene finito male purtroppo comunque 8 assist e 3 gol ho partito anche lui bene con Mann e Miaila che erano tra nazionale e infortuni fuori chiamato poco in causa forse bloccata un po' la crescita peccato perché è un ottimo esterno comunque Traore si fa il suo più 3 Girotti si fa un bel più 4 con 16 gol comunque quindi tanta tanta roba e 5 assist anche lui ottimo poteva essere diciamo più cinico in certe occasioni però non gli voglio cioè non gli voglio assolutamente puntare il dito anzi si è rivelato molte volte decisivo Torsello vabbè una presenza giocatore diciamo meme Pinto adesso andrà in prestito si spera anche lui una presenza comunque un più 4 Pellegri si fa un bel più 1 5 presenze 2 gol direi ottimo Eguain era partito alla grande con 19 presenze 13 gol e 4 assist cioè veramente una partenza fuori dal comune poi l'infortunio è stato quello che gli ha ammazzato la stagione e penso anche abbia sancito alla fine della sua carriera poi abbiamo Tuttino rivelazione straordinaria di questo campionato non ci fosse stato Farias avrei dato assolutamente a lui il migliore anche perché fa più gol però meno assist anzi no non è vero perché Farias ne ha fatti 21 quindi nulla mi rimangio quello che ho detto comunque veramente un attaccante di peso davanti di esperienze mi è piaciuto veramente molto utilizzarlo e loro due che crescono rispettivamente Bonnie di 2 e Adrian di 1 adesso l'unica cosa che volevo fare insieme a voi è capire se possiamo riscattare Miretti visto che il riscatto era messo se e solo se avessimo raggiunto la qualificazione tra l'altro l'unica cosa che voglio controllare prima di acquistarlo è gli stipendi perché lui prende 20k 18 per Pellegri comunque gli stipendi saranno da tirare su un po' per tutti infatti dovremmo stare attenti con gli acquisti più che altro perché dovremmo più sistemare quelli che sono i fattori stipendi ovviamente quindi direi di andare a provare a riscattarlo comunque perché se no lo facciamo adesso quando quindi fissa diritto di riscatto non è abbastanza voglio morire voglio morire il diritto di riscatto a quanto era quindi lo sapevo che andava a finire così perderemo Miretti e non usciremo mai più a riprenderlo anche perché mi sembra che quest'anno il budget qua non si può sistemare se non mi ricordo male budget eh no non si può sistemare niente perso così Miretti per 300.000 euro perché sto gioco non ti fa sistemare il budget e a sto punto io vabbè Pellegri per la cifra che è lo riscatterei assolutamente andiamo a vedere se riusciamo anche a strappargli un contratto decente e niente la chiudiamo così purtroppo perfetto 12 tanto tireremo su anche gli altri non vi preoccupate e acquisto riscattato per Lady che comunque si è difeso bene poi perderemo attaccanti così non dobbiamo andare a comprare almeno lui che sicuro l'avremo pagato di più in estate abbiamo pagato 2 milioni che mi interessa 1 milione e 9 e 50 sono un valore di 3 devo dire ottimo acquisto dispiace invece per Miretti che lo salutiamo e non penso che riusciremo a comprarlo più è stato bello finché è durato consigliatemi sotto un centrocampista per sostituire per sostituirlo sarà difficile magari punterò su qualcuno ad esperienza visto che in serie A magari un buonaventura mi viene così in mente potrebbe rivelarsi importante così da dare anche esperienza alla squadra io che dire ragazzi io vi direi che ci possiamo salutare qui ci rivedremo poi a stagione iniziata ditemi un sacco di nomi tutto quello che volete dirmi sotto nei commenti Miretti attenzione lì la mail magari ci dice mister mi mancherà tantissimo vediamo un po' cosa ci dice il nostro ragazzo prima di chiudere il video mister non so cosa succederà ora volevo dirle che sono stato molto bene durante il mio periodo in prestito e qui spero di poter rimanere a titolo definitivo Miretti mi spiace non ci abbiamo i soldi continuo a lavorare se è stato grande se è stato grande c'è poco da dire proveremo se la società ci da tanti soldi ad acquistarlo con la clausola sempre se la Juve non gliela toglie il Monza comunque vince la Coppa Italia altrimenti niente altrimenti si piange e basta si piangerà tanto tantissimo ma di più non possiamo fare quindi adesso non mi perdo più in chiacchiere inutili se il video vi fosse piaciuto lasciate un mi piace e un commento dove dite secondo voi che è stato il migliore di questa stagione io voto Farias condividete sempre il video sul vostro è tutto noi ci vediamo a un prossimo video a un prossimo video ciao a tutti